Nella mattinata odierne i carabinieri della compagnia di Sorrento, in esecuzione di un'ordinanza cautelare messa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Editora Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto all'arresto di quattro persone, delle quali tre destinatari della custodia cautelare in carcere ed una destinataria della misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre una quinta è tuttora attivamente ricercata, tutte gravemente iniziate di furto pur di aggravato in concorso. L'evento per cui si procede risale alla notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio 2021, allorché a Massa Lubrense, presso la sede commerciale di un'azienda locale, veniva perpetrato un furto di orologi, monete e banconote per un valore stimato di circa 335 mila euro. Dal primo sopralluogo era emerso che gli autori del reato erano penetrati nella sede della ditta, attraversando un agrumeto limitrofo e con l'uso di scale telescopiche si erano introdotti nel secondo piano dell'edificio, accedendo dalla finestra del bagno non coperta dal sistema di allarme. I malviventi, una volta all'interno per bypassare il sistema di videosorveglianza e l'allarme posto alla porta dell'ufficio del titolare della ditta, avevano praticato un foro nella parete che divide il bagno dall'ufficio principale, su un muro dove era posizionata la cassaforte ad armadio. Quindi, con attrezzi di carpenteria e con l'uso di un flex, erano riusciti ad aprire uno squarcio nella parete retrostante alla cassaforte, sottraendo nel contenuto compresa una seconda e più piccola cassaforte in metallo che era ancorata alla cassaforte principale. Le indagini hanno consentito di ricostruire tutte le fasi del furto. L'analisi delle telecamere di videosorveglianza private, lo studio dei tabulati telefonici, il tracciamento del traffico veicolare registrato dai sistemi di lettura delle targhe hanno consentito di documentare gli spostamenti effettuati e le autovetture utilizzate dagli autori del reato. La ricostruzione investigativa operata dai carabinieri della compagnia di Sorrento ha consentito di raccogliere un grave quadro indiziario a carico degli indagati in ordine al grave furto per cui si procede. All'esito delle formalità di dito, tre degli arrestati sono stati associati alla casa circondagnale di Napoli, Poggio Reale, mentre il quarto è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.